Ciao a tutti ragazzi, oggi vi spiegherò nel dettaglio come funziona Insta360 Studio. In un primo momento vedremo quindi come modificare le singole clip registrate a 360 gradi, ma poi andremo anche nella sezione dedicata al montaggio video. Infatti a partire dalla versione 5.0 di Insta360 Studio è possibile fare anche i montaggi. Quindi vedremo veramente tantissime cose e vi consiglio di mettervi comodi. Ma prima di iniziare ne approfitto per ringraziare Insta360 per aver sponsorizzato questo video. Per prima cosa installiamo Insta360 Studio, quindi clicchiamo su Download e poi seguiamo la procedura guidata. Il tutto è veramente semplicissimo. Arrivati a questo punto però vi volevo far notare come prima effettivamente di installare il programma non abbiamo l'anteprima di questi file, proprio perché non abbiamo installato nulla. Ora ritorniamo appunto nella pagina dell'installazione ed effettivamente possiamo notare come c'è scritto che installeremo anche il plugin dedicato all'anteprima dei file. Inoltre è presente anche il plugin dedicato ad Adobe Premiere. In questo tutorial non affronteremo questa parte però è giusto per farvi capire che comunque se installate tutto potrete sfruttare i video a 360 direttamente anche su Adobe Premiere. Quindi andiamo avanti ed aspettiamo il termine dell'installazione. Arrivati a questo punto clicchiamo su Fine e verrà avviato automaticamente il programma. L'interfaccia è molto semplice ma prima di tutto importiamo i file. Possiamo cliccare su apri file e quindi puoi importarli da qui oppure più semplicemente possiamo effettivamente aprire la cartella dove adesso effettivamente vi faccio notare che sta caricando le anteprime. Infatti abbiamo installato il plugin e mano a mano aggiornerà tutte le anteprime video e così possiamo dare un'occhiata anche a quello che stiamo importando. Quindi in questo caso che cosa faccio? Riduco la finestra, seleziono tutto semplicemente così e li trascino all'interno del programma. Dopo qualche istante vedremo che sta importando tutto e possiamo vedere le anteprime dei nostri filmati. Ora di base qui mi ha aperto effettivamente il primo file che è una foto a 360. però prima di iniziare a vedere come si editano effettivamente i file a 360 diamo un'occhiata al programma. Allora da queste icone in alto a sinistra effettivamente vediamo questi file che abbiamo importato e da qui possiamo cambiare l'anteprima dei nostri video. Quindi in base a quanti ne abbiamo possiamo magari dare un'occhiata così in elenco ma secondo me appunto il modo più semplice per vederli è questa qui, questo tipo di anteprima. Se clicchiamo qui sul più potremo nuovamente selezionare altri file e aprirli da qui ma ripeto secondo me il metodo più semplice è quello di trascinarli direttamente nel programma. Tra l'altro se magari abbiamo tantissimi file io posso cliccare sulla stellina magari su questo e poi su questo e se vado in questa sezione qui vedrò effettivamente questi filmati selezionati quindi noi magari possiamo iniziare a dare un'occhiata a tutti i video magari li abbiamo importati tutti della nostra x4 e poi facendo le stelline possiamo salvare quelli preferiti salvare intendo all'interno del programma in modo che poi li ritroviamo molto rapidamente. Ma torniamo sempre in questa sezione come vediamo se clicchiamo sulla i ci dà i dati in questo caso appunto è una foto e mi dà la risoluzione l'iso il tempo di esposizione e l'apertura. Adesso invece vado ad esempio su questo video clicco sulla i e qui appunto mi dà la risoluzione gli fps il bitrate e la durata quindi comunque abbiamo un po' di informazioni. Quindi chiudiamo nuovamente questa finestra e notiamo come in alto a sinistra c'è effettivamente l'icona che indica la risoluzione 8k 8k e qui per esempio 5,7k. Ora qui se io passo il mouse mi dice per visualizzare l'anteprima è necessario il file lrb. Che cosa significa? Che quando noi importiamo i file abbiamo anche la possibilità di copiare i file lrb. quindi vado adesso in un'altra cartella e qui ad esempio avevo copiato oltre ai file insb che sono appunto i file video della insta360 x3 x4 abbiamo anche questi file lrb che sono i file di anteprima e quindi se io per esempio seleziono questo file 0068 e do un'occhiata qui effettivamente ho il file lrb ma io non lo devo importare nel programma perché posso semplicemente selezionare il file che mi interessa perché all'interno della stessa cartella c'è il file lrb quindi lo trascino nel programma e qui se io passo effettivamente il mouse e mi sposto a sinistra e destra posso vedere che effettivamente c'è l'anteprima infatti in questo caso si è caricato automaticamente il file lrb quindi questo significa quando importate i vostri file registrati a 360 gradi se non avete problemi di spazio potreste copiare anche i file lrb che ci aiuteranno appunto durante l'editing perché appunto sfrutteranno ad esempio questa funzione. se ovviamente avete problemi di spazio comunque potete cancellare i file lrb e comunque potrete modificare i vostri video. Ora qui sotto magari vi state confondendo un pochino perché ci sono tutti questi pallini gialli ma ora ci arriviamo perché questo effettivamente era un filmato che già avevo editato quindi direi di fare un doppio clic sul primo file che è una foto e ci possiamo spostare all'interno dell'anteprima semplicemente così con il mouse e come vediamo effettivamente ci sono io qui sotto e la foto è a 360 gradi. Facciamo uno zoom out semplicemente con la rotella del mouse quindi io vado indietro se vado in avanti ovviamente posso zoomare. E chiaramente da qui possiamo creare anche un altro tipo di effetto. Infatti vi consiglio le prime volte di iniziare a giocare un pochino con l'anteprima così vi rendete conto effettivamente di quello che possiamo fare. Tra l'altro poi nella sezione foto possiamo anche animarla. Infatti questa è la foto che ho scattato. Clicco su preset 1 poi clicco su play ed effettivamente automaticamente ha applicato questa sorta di movimento. Come potete vedere ce ne sono diversi ma in questo tutorial vi voglio parlare principalmente dei video quindi vado a fare doppio clic su quest'altro file e adesso se io faccio play chiaramente anzi prima di fare play disattivo l'audio. Da qui possiamo avere appunto il volume possiamo gestire l'audio. In questo momento appunto non mi interessa perché se no magari sovrasta la mia voce. Clicco su play e così abbiamo questa inquadratura. Nulla di particolare. Allora che cosa possiamo fare? Intanto io magari metto un attimo pausa e inizio a spostarmi nella scena. Quindi facendo questi swipe effettivamente mi posso spostare. Come prima se faccio uno zoom out quindi ruoto all'indietro la rotella del mouse effettivamente mi allontano dalla scena. Se invece faccio uno zoom in appunto più che altro muovo la rotella in avanti mi posso spostare così. Ma una cosa molto interessante chiaramente è che se noi clicchiamo qui sotto dove c'è scritto 16 noni possiamo cambiare il rapporto d'aspetto. Quindi per i classici video in orizzontale va benissimo utilizzare i 16 noni mentre per i social utilizzeremo i 9 sedicesimi. Quindi in questo modo avremo l'anteprima appunto in verticale e potremo salvare il video in verticale. Però per questo tutorial comunque preferisco lasciare i 16 noni. Dando un'occhiata qui in alto a destra vediamo che possiamo abilitare o disabilitare la stabilizzazione di base abilitata. Cosa succede se la disattiviamo? Beh il patatrack quindi ovviamente lasciate la stabilizzazione attiva. Il secondo anzi la seconda voce è il blocco della direzione che significa che di base la insta360 più che altro il video rimarrà con l'inquadratura della direzione della lente. Che cosa significa? Che se noi effettivamente facciamo dei movimenti di camera magari la ruotiamo anche con il blocco della direzione avremo quello ma comunque a noi magari non ci interessa per la maggior parte delle volte. Quindi in questo caso io disattivo il blocco della direzione perché comunque poi preferisco gestire l'anteprima manualmente e ora infatti vedremo come fare. Andando avanti possiamo gestire lo stitching delle lenti quindi la cucitura dell'effetto 360 quindi zoom qui su di me e diamo un'occhiata a questa cucitura. Di base è messa su normale e così deve essere diciamo il 90% delle volte a meno che non utilizzate magari le protezioni delle lenti, le protezioni delle lenti premium, il case subacqueo invisibile, sott'acqua oppure non sott'acqua. Qua d'altro forse c'è un errore di traduzione perché ci dovrebbe essere la funzione che ci dice che il subacqueo invisibile fuori dall'acqua e dentro l'acqua. Comunque se io ad esempio clicco questo che cosa succede? Beh è questo effetto. Perché? Perché in questo caso non stavo utilizzando lo scafandolo subacqueo e quindi chiaramente succede il patatrack. Quindi dobbiamo fare sempre attenzione alle impostazioni. Se noi sbagliamo durante la registrazione comunque appunto qui nel programma possiamo cambiare. Se io metto protezione alle lenti standard comunque vediamo che abbiamo un effetto sbagliato. In questo caso io non avevo montato nulla e quindi lascerò sul normale. Lo stesso vale per la cover termica disponibile per la X4 quindi sulla X3 ad esempio non c'è. Se io clicco qui effettivamente la differenza è minima. Quindi lasciamo su normale se non la stiamo utilizzando anche se paradossalmente in questo momento se io faccio play con la cover termica applicata sembra che lo stitching sia leggermente migliore. Comunque lasciamo sul normale ma qui possiamo gestire l'ottimizzazione dello stitching. Di base dovrebbe essere a flusso ottico e possiamo provare anche la cucitura AI che in questo caso mi sembra effettivamente migliore. Oppure lo stitching dinamico. Insomma in base alla scena potrebbe essere più utile fare questi test. Insomma se vedete che c'è un errore nello stitching potreste provare queste altre modalità. E di base magari cucitura AI, flusso ottico, stitching dinamico in questo caso non sta facendo una grandissima differenza. Vediamo facciamo play. Ci spostiamo qui. Tra l'altro ho messo pausa ad esempio con lo spazio della tastiera. Facciamo stitching dinamico. Ad esempio qui si nota di nuovo la differenza. E in questo caso stitching a flusso ottico per questa scena sembra migliore. Insomma qui è da giocarci un pochino ma il 90% delle volte non ce ne accorgeremo a meno che non zoomiamo tantissimo effettivamente nella zona dove c'è lo stitching. Poi nella sezione successiva abbiamo la sezione dedicata all'elaborazione dell'immagine ed è l'unica parte al momento che ci permette di fare un po' di color correction. Allora se mettiamo color plus effettivamente aumenta il contrasto e diciamo accende un po' di più il video. Possiamo aumentare l'effetto da 0 a 100. Considerate che queste clip che state vedendo sono tutte fatte con il profilo colore flat. Quindi effettivamente necessitano di un po' di post produzione più che altro di color correction. Disattiviamo il color plus. Se metto clarity plus aumenta effettivamente la chiarezza, un po' la nitidezza del filmato. Poi motion ND ci permette di avere questo effetto sfocatura proprio come se stessimo utilizzando dei filtri ND. Dal programma vedremo quest'anteprima che magari non è il massimo ma poi una volta esportato il video effettivamente ci rendiamo conto dell'effetto finale. Tra l'altro qui possiamo gestire la soglia e l'intensità. Insomma se magari per voi è troppo forte questo effetto potete provare ad abbassare un pochino questi valori per vedere magari se rende un po' meglio. Di base comunque va benissimo per come è impostato per la maggior parte delle riprese ma adesso effettivamente magari sembra un po' più soft. Quindi questo effetto ci darà un look un po' più cinematografico perché appunto sfocherà tutto quello che è in movimento. Aquavision 2.0 invece principalmente aumenterà il magenta, ridurrà il verde, magari aumenterà un pochino la temperatura. Questo perché se facciamo le riprese sott'acqua avremo la necessità effettivamente di abilitare Aquavision 2.0 e ora magari appunto prendo una clip realizzata sott'acqua così ci rendiamo subito conto della differenza. Mi porto più avanti nella timeline che ancora adesso la dobbiamo analizzare effettivamente. Allora prendiamo questa inquadratura così, ritorniamo qui, seleziono Aquavision 2.0 ed effettivamente come vediamo non c'è più quel verde di prima ma anche qui possiamo gestire un po' la tonalità e la potenza di questo effetto. Allora di base messo al massimo a me non fa impazzire quindi in base anche all'acqua che stiamo filmando perché ovviamente in base al mare, alla zona in cui ci troviamo questo effetto potrebbe variare. Quindi magari in questo caso magari la possiamo lasciare così. Andiamo avanti nel filmato, faccio play ed effettivamente così mi sembra un buon compromesso. Poi abbiamo la sezione dedicata all'audio che ci permette di disabilitare ogni controllo oppure ci sarà la riduzione del rumore. Quindi magari se c'è vento comunque in un ambiente diciamo all'aperto potrebbe convenire selezionare riduzione rumore o la messa a fuoco sulla voce. Quindi cercherà di focalizzarsi sulla nostra voce. Magari mentre facciamo un vlog. Anche in questo caso in base alla situazione vi conviene fare delle prove. Tra l'altro mentre riproducete il filmato potete cambiare queste modalità e quindi vi renderete conto effettivamente quale può far al caso vostro. In media comunque io spesso utilizzo la riduzione del rumore che funziona abbastanza bene. Nella sezione successiva possiamo impostare il logo e possiamo caricarle uno nostro oppure selezionarne uno di Insta360 ed effettivamente comparirà qui sotto. Beh magari questa cosa è più utile per chi utilizza le Insta360 per realizzare magari dei video di un'agenzia immobiliare. Allora magari poi in basso si può mettere il logo dell'agenzia immobiliare. Ecco questo è quello che mi viene in mente. Tra l'altro possiamo gestire anche la location del logo. In questo caso sopra, sotto, vediamo sinistra, destra. Insomma possiamo effettivamente fare un pochino di modifiche ma questa è una funzione che io onestamente non uso mai. Quindi lo disabilitiamo. Da qui abbiamo la possibilità di gestire il progetto e ci ritorneremo a brevissimo non appena iniziamo a fare delle modifiche effettive all'inquadratura del filmato. E infine abbiamo la sezione info che avevamo visto anche da qui. Quindi se io clicco qui info comunque mi dava quella schermata o se no la possiamo aprire direttamente da qui e ci rendiamo conto quindi delle specifiche del filmato. Non ci ricordiamo a quanti fps è stato registrato magari lo leggiamo da qui. In 8k con la x4 sappiamo è comunque il limite a 30 fps però comunque sono dei dati molto interessanti che possono tornare utili. Ad esempio se io adesso seleziono questo video c'era un video realizzato in 5,7k ad esempio questo qui e vado nelle info effettivamente mi dice 59,94 fps ovvero va bene i 60 fps e quindi così so che effettivamente questa clip io l'ho realizzata a questo frame rate magari per fare uno slow motion. Quindi torniamo indietro alla selezione delle clip e magari seleziono questa clip qui, doppio clic e come vediamo possiamo appunto ruotare qui e adesso iniziamo a fare un po' di editing effettivo per creare i keyframe. Insomma vediamo ora tutta la parte più interessante. Allora diamo un'occhiata alla barra qui in basso che appunto è la nostra timeline della singola clip. Quindi significa che se io ad esempio clicco qui mi porterò al centro del video. Se vado qui effettivamente vado ancora più avanti. Infatti se clicco su play vediamo come questa barra scorre. Infatti mi porto più avanti, faccio play ed effettivamente sta andando in avanti. Ok adesso vediamo che effettivamente l'inizio del video non ci interessa quindi possiamo iniziare a tagliarlo in due modi. Quindi o trascino questa sezione qui in questo modo e quindi effettivamente il video partirà da qui. Infatti questa parte non è più selezionabile ma ovviamente poi posso trascinare indietro se magari ho fatto un errore. Ma posso anche più rapidamente cliccare qui ed effettivamente mi dà il taglio da sinistra. Stessa cosa se io mi sposto in avanti e magari penso che il video bene o male ok finisca qui sotto. Posso trascinare questa parte qui fino a qua e così il video effettivamente viene tagliato fino a qui. Infatti se io lo riporto qui sotto e poi diamo un'occhiata mi dice la durata in questo caso è di un minuto e 51 ma se io mi risposto qui mi dice che un minuto e 44 proprio perché effettivamente sto tagliando il video. Quindi riportiamo al massimo questa la clip e posso fare il taglio in questo modo. Quindi clicco qui e rapidamente ho tagliato la mia clip. Ho semplicemente ridotto la parte iniziale e finale che era la parte magari quando estendiamo il selfie stick o comunque quando non c'è qualcosa di interessante. Quindi torniamo qui facciamo play. In questo caso che io sto facendo questa ripresa effettivamente non volevo inquadrare me ma volevo inquadrare il panorama. Quindi mi posso posizionare così e fare play ma in questo momento noi non stiamo salvando questa inquadratura che vuol dire non stiamo salvando che effettivamente è come se fossimo un po' in un'anteprima semplicemente. Quindi se a me piace questa inquadratura così posso cliccare questo puntino qua questa icona qui. Quindi cliccando qui sotto apparirà sulla timeline questa iconcina gialla e qui abbiamo una serie di impostazioni che riguardano il campo visivo. Infatti da qui posso effettivamente spostarmi nell'inquadratura. Da qui posso appunto spostarmi verticalmente. Da qui possiamo creare delle rotazioni. Da qui cambiamo il campo visivo infatti è riportato in gradi. In questo caso ovviamente se lo portiamo così al massimo non va assolutamente bene. Quindi ritorniamo bene o male qui magari a 80 gradi e da quest'altra icona possiamo gestire un pochino la distorsione. Infatti anche se cambia il campo visivo principalmente ridurrà appunto la distorsione. Come sempre dobbiamo cercare di trovare il giusto compromesso. Ma io clicco qui così resetto tutto quello che ho appena combinato e possiamo utilizzare anche le visuali di base. Megaview è appunto la nuova visuale che ha un buon compromesso fra campo visivo e distorsione ma possiamo selezionare ultra wide oppure the warp. Ma ovviamente queste qui sono diciamo le inquadrature più zoomate. In alternativa possiamo selezionare palla di cristallo abbiamo questo effetto così oppure abbiamo il tiny planet che è il mio preferito. Infatti in questo modo sembrerà effettivamente che siamo in un minuscolo pianeta. Ma in questo caso effettivamente io ho modificato il mio video l'inquadratura del video. Infatti c'è questo pallino giallo e fino a qua sotto comunque rimarrà con questo campo visivo con questa inquadratura. Nessuno mi vieta di tornare indietro ed effettivamente cancellarlo. Per cancellarlo posso cliccare con il tasto destro e posso sia copiarlo magari per incollarlo più avanti oppure posso eliminarlo. In alternativa se appunto creo qui mi faccio di nuovo il tiny planet posso cancellarlo semplicemente con il tasto canch della tastiera e così diventa ovviamente molto più rapido. Quindi in questo caso io voglio magari un'inquadratura un po' più ampia. Sto facendo uno zoom out con la rotella del mouse. Clicco il più. Vado avanti nel video. Vediamo che cosa succede. Mi porto un po' più avanti. Arriviamo qua. Magari voglio che fa questa rotazione così. Quindi mi porto più o meno qui e crea un altro keyframe. Quindi un fotogramma chiave. Quindi che cosa succede? Che se io torno indietro effettivamente stiamo creando un movimento di camera. Infatti come possiamo vedere tralasciando qualche lag che è dovuto purtroppo al mio computer. Cosa succede? Stiamo facendo effettivamente questa inquadratura. Questo movimento. Appunto ci siamo spostati verso sinistra. Il che lo rende molto interessante. Per farvi vedere un altro effetto di questo tipo. Apro quest'altra clip. Clicco su play. Magari mi posiziono qui. Taglio questa prima parte che non mi interessa. Clicco il tastino più. Con il campo visivo mega view. Mi sta bene. mi porto un po' più avanti. Magari circa a 10 secondi. Creo un altro keyframe. E faccio questa rotazione. E ne faccio una a 360 gradi. Ok infatti mi dà uno per. Che cosa succede se io torno indietro? Faccio play. Ed effettivamente stiamo ruotando l'orizzonte. Proprio perché ho creato manualmente questa transizione. E ovviamente questo è semplicemente un esempio perché avendo il video a 360 gradi possiamo fare veramente di tutto. Tra l'altro possiamo abilitare il motion ND. Come abbiamo visto lo possiamo selezionare da qui oppure lo possiamo selezionare anche da qui sotto. Quindi se io seleziono il motion ND poi torno indietro e faccio play. Come si vede già dall'anteprima abbiamo questo look un po' più mosso. Ma soprattutto poi in fase di esportazione vedremo che effettivamente l'effetto è molto molto più chiaro. Quindi diventa veramente figo in alcune situazioni. Ma adesso torniamo alla clip di prima che è questa qui. E io dico ma effettivamente questo montaggio così più che altro questo editing di queste inquadrature mi piace ma vorrei provarne un altro. Come posso fare senza cancellare quello che ho appena fatto e senza esportare il video? Proprio perché sono in fase ancora di modifica e non so che cosa voglio ottenere. Andiamo qui nella sezione progetto e clicco crea nuovo progetto. In questo modo avremo la stessa clip di prima ma possiamo fare tutte le modifiche che vogliamo. Ma se vogliamo ritornare alle modifiche di prima cliccheremo sul progetto 1 ed effettivamente vediamo che abbiamo questi keyframe. Quindi questo è un modo molto semplice per modificare i nostri clip soprattutto se siamo in dubbio e non sappiamo che cosa vogliamo ottenere. Quindi in questo caso che cosa voglio fare? Mi porto avanti la taglio di nuovo e clicco su questa icona qui che abilita il tracciamento e mi dice con il pulsante sinistro del mouse selezione il soggetto da tracciare o clicca sul tracciamento automatico per iniziare il tutto. Allora io clicco qui ed effettivamente mi ha agganciato quindi ha riconosciuto me. Questa operazione chiaramente è lievemente più lenta perché ovviamente deve analizzare e capire dov'è il soggetto e poi ci seguirà. Quindi in questo caso ho selezionato me ma posso selezionare anche un'altra persona o magari una macchina insomma diventa veramente interessante. Se io clicco su interrompi il tracciamento come vediamo abbiamo adesso una linea gialla e qui se io faccio play effettivamente mi rendo conto che mi ha agganciato e rimarrò sempre al centro dell'inquadratura. Quindi questo è anche un modo semplice invece di creare in continuo tanti keyframe perché magari vogliamo stare semplicemente noi al centro dell'inquadratura possiamo lasciar fare il tutto al programma. Ovviamente non appena si interrompe questa sezione del tracciamento poi l'inquadratura rimane più o meno così quindi poi effettivamente se lo vogliamo per tutta la clip dobbiamo far tracciare il tutto. Se io clicco qui sopra posso cambiare il campo visivo e quindi questa è anche una grandissima comodità perché magari mi piace il tracciamento ma io voglio che magari il video si veda in questo modo e quindi appunto vado indietro e ho sempre la stessa clip però appunto con questa modifica. Se io poi clicco sul cestino effettivamente ho cancellato questo tracking che è veramente una grandissima comodità. Se invece clicco il tasto della saetta che cosa ci fa? Ci permette di velocizzare il video quindi in questo caso io posso selezionare una porzione del video e posso dirgli di quanto deve velocizzarlo quindi 2x chiaramente sarà due volte più veloce un filmato di un minuto durerà 30 secondi e così via fino a 64x quindi diventa veramente velocissimo infatti come vediamo quella sezione ora dura pochissimo quindi magari lo porto qui e gli diamo 4x quindi io mi porto di nuovo sulla timeline clicco su play e improvvisamente questa parte è più veloce di 4 volte. Questa cosa magari può essere utile se facciamo una lunga camminata e vogliamo creare appunto un time shift quindi tutta una parte più veloce ma oltre a velocizzare il video lo possiamo rallentare. Quindi adesso prendo un'altra clip ma vi faccio vedere che appunto torno nel progetto 1 e abbiamo sempre quei keyframe che abbiamo fatto all'inizio ma se poi clicco su progetto 2 ho effettivamente questo time shift che abbiamo appena creato. Quindi torniamo qui seleziono quella clip di prima che era in slow motion appunto è a 60 fps quindi clicco sulla setta in questo caso la voglio tutta rallentata quindi clicco fino alla fine. Dato che abbiamo registrato a 60 fps possiamo rallentare di due volte e quindi invece di 1x o 2x seleziono un mezzo e adesso il video durerà il doppio infatti tutti i movimenti sono più lenti. Infatti se lo portiamo avanti vediamo come effettivamente la camminata risulti più lenta. Quindi veramente questa è veramente semplicissimo fare i video velocizzati o rallentati. Poi da qui comunque se clicchiamo sul più o sul meno non zoomeremo sul filmato ma zoomeremo effettivamente la nostra timeline perché magari se abbiamo fatto più modifiche e abbiamo più keyframe può essere utile effettivamente avere uno zoom maggiore su questa timeline. Quindi mi porto indietro se adesso volessi ad esempio fare uno screenshot basta che clicco qui e mi dà la possibilità di salvare queste immagini. Se invece clicco l'icona in basso a destra e quindi così possiamo vedere il nostro filmato a schermo intero. Ma adesso seleziono questo video mi porto qui e vi faccio vedere che appunto posso creare un movimento. Faccio play magari voglio che a questo punto ci sia questa rotazione in avanti clicco un'altra volta sul keyframe mi porto indietro faccio play ed effettivamente c'è un movimento di camera. Quindi effettivamente ho creato un movimento da sinistra verso destra o viceversa. E poi se invece clicco qui su questa lineetta gialla posso selezionare il tipo di di transizione di base magari è messa su così standard che è fluida ma possiamo cambiare anche la velocità magari all'inizio è più veloce poi rallenta e poi di nuovo è veloce o viceversa. Ad esempio dissolvenza in entrata scivolamento in uscita. Cosa succede? Clicchiamo su play adesso è lento e poi va un pochino più veloce. Quindi anche qui potete giocare sulla velocità delle transizioni. Ho preso questa clip anche perché voglio far vedere che c'è una nuova sezione. Infatti in questo caso l'ho registrata con il telecomando GPS e adesso possiamo effettivamente inserire magari il look più che il look effettivamente tutti questi dati che riguardano appunto i dati GPS e se io clicco su play effettivamente mi dà tutti questi dati che noi possiamo poi anche cambiare un po' di stile selezionando questi qui preimpostati. Possiamo selezionare ovviamente quello che vogliamo che non vogliamo ma possiamo anche cambiare il look o comunque le impostazioni di queste cose. Infatti ad esempio possiamo cambiare i colori, la dimensione, insomma possiamo fare veramente un po' di tutto. Ma adesso è arrivato il momento di esportare il video e quindi se io clicco qui sotto abbiamo tutta una serie di impostazioni. Allora partiamo dal nome del file, lo possiamo rinominare, possiamo cambiare il percorso del file quindi dove vogliamo salvarlo, possiamo selezionare dei parametri preimpostati. Allora di base noi non li avremo mai creati e quindi possiamo di base appunto sarà su nessuno. Io già ne avevo creato uno e di base mi riporta le mie impostazioni preferite. Ma comunque di base il bitrate ci dà la dimensione effettiva del filmato. Infatti come possiamo vedere qui in basso abbiamo l'anteprima della dimensione. Ora dipende da quello che volete fare nel senso che se dovete condividere il video direttamente su youtube o sui social allora partiamo dal codec potete selezionare l'h264 e come bitrate. Allora per youtube se già il video è pronto all'uso non dovreste superare i 50 megabit al secondo. Se invece comunque un filmato che volete tenere per voi magari diciamo con una buona qualità potreste selezionare i 100 mega a secondo così comunque sarà più compresso rispetto all'originale ma non perderà troppa qualità. E qui possiamo selezionare la risoluzione del 4k ma se avete la necessità nessuno vi vieta di utilizzare anche il full hd. Io comunque li salvo sempre in 4k. Ma se voglio esportare questi filmati per fare poi delle ulteriori modifiche su un programma di montaggio come ad esempio adobe premiere io effettivamente imposto circa 130 mega a secondo ma in h265 così mantiene ancora più qualità. Ovviamente se non volete avere alcuna perdita teoricamente dovreste selezionare i 200 mega a secondo però io ho visto che almeno dalle prove che ho fatto io selezionando questi 130 abbiamo diciamo un buon compromesso fra dimensioni e qualità del filmato. E poi da qui possiamo iniziare a esportarlo oppure aggiungi alla coda. Che cosa significa? Che qui effettivamente è nella coda di esportazione e noi possiamo aggiungere altri filmati. Quindi io torno qui da questa inquadratura magari seleziono questo video qui anche se non gli ho fatto magari nessuna modifica lo vado a esportare e clicco su aggiungi alla coda e adesso ho questi due filmati e dico ok adesso inizio esportazione magari mi allontano dal pc quindi seleziono questa icona qui e lui inizierà a esportare i filmati. In base alle dimensioni alla risoluzione alla potenza il vostro computer magari anche alla quantità di editing che avete fatto può richiedere magari dai pochi secondi magari a qualche minuto. Adesso direi prima di passare alla modalità progetto che è la modalità di editing di dare un'occhiata a quest'altra sezione che è la modalità appunto di anteprima che effettivamente ci dà questo tipo di anteprima più aperta proprio a 360 gradi ma spiaccicato come se appunto stessimo guardando magari una cartina invece di avere la visuale effettiva appunto sferica o ovale comunque della terra e abbiamo appunto la cartina aperta in questo modo ma appunto di base anche per l'anteprima conviene andare direttamente qui. Ma quasi mi dimenticavo se voi volete esportare il vostro video in modalità 360 comunque lo potete fare e in questo caso ad esempio la clip era registrata in 5,7k quindi a 60 fps e si è preso appunto questi valori di base. In questo modo il video sarà a 360 quindi magari se lo volete esportare per visualizzarlo a 360 su youtube o magari su un visore br allora potrebbe essere utile effettivamente esportarlo a 360 altrimenti il 90 per cento delle volte utilizzate appunto esporta video rinquadrato. Ma una funzione di cui non vi avevo parlato è l'autoframe infatti se clicchiamo l'icona qui in basso avvieremo l'analisi automatica del nostro video. Io onestamente non utilizzo mai questa funzione infatti prima non ve l'avevo nemmeno nominata però potrebbe essere molto utile per fare magari dei tagli veloci dei montaggi più veloci. Ora se avete anche il file lrb l'analisi sarà molto più rapida attendiamo quindi il completamento. Come vediamo qui abbiamo una serie di clip qui abbiamo quella da un minuto e 16 che quella integrale ma se poi facciamo un doppio clic su queste clip e poi facciamo play ci renderemo conto che effettivamente ha agganciato il soggetto in questo caso io per esempio se clicco qui poi faccio play effettivamente sta spostando l'inquadratura e quindi come vediamo ha fatto tutta una serie di tagli e di clip che possiamo sia esportare singolarmente magari le possiamo esportare in blocco infatti le possiamo selezionare manualmente oppure selezioniamo tutto clicchiamo qui e possiamo andare a esportare il tutto in questo caso mi dà qualità bitrate suggerimento originale o personalizzato potrei lasciare originale oppure personalizzato e gestire il tutto manualmente come abbiamo visto prima come anche la risoluzione e se poi clicco inizia ad esportare effettivamente troveremo nell'elenco tutte queste singole clip. Se clicchiamo nella sezione progetto accederemo alla sezione appunto dedicata al montaggio video e in questo caso già si è caricato effettivamente i file che avevamo importato prima. Comunque possiamo creare un nuovo progetto possiamo selezionare la cartella e il nome del progetto ad esempio questo caso lo chiamo editing il rapporto d'aspetto utilizzeremo i 16 noni per il classico video orizzontale 9 sedicesimi per i video in verticale oppure questi altri se volete appunto un rapporto d'aspetto è differente ma appunto utilizziamo i 16 noni. Purtroppo al momento sembra esserci una limitazione di fps quindi se voi volete esportare editare i vostri video a 60 fps in questo caso non è possibile ma teoricamente con i prossimi aggiornamenti verrà risolto questo problema. Se avete problemi di prestazioni comunque è possibile creare dei proxy e quindi sono dei file di anteprima su cui lavorerà effettivamente insta360 studio in questo caso seleziono nessun proxy quindi clicco su conferma e in questo caso abbiamo il nostro progetto video quindi cosa succede che se io seleziono la prima clip e clicco sul più effettivamente già la trascina sulla timeline o se no possiamo appunto prendere la clip e trascinarla manualmente sulla timeline in questo modo come già potete vedere abbiamo due clip quindi se io faccio play qui effettivamente stiamo facendo un montaggio video da qui possiamo cliccare su questa icona per disattivare l'audio ma un attimino ingrandisco qui questa timeline e possiamo vedere che abbiamo un bel po' di impostazioni e allora qui noi avremo la nostra traccia dedicata ai video o magari appunto se voglio mettere anche una foto io onestente vi sconsiglio di fare i montaggi con le foto e i video insieme ricorda molto anni 2005 quindi seleziono la foto e clicco su cance sulla tastiera e poi posso effettivamente importare della musica che già è presente nel programma e le dobbiamo ogni volta scaricare io ad esempio già avevo scaricato queste due quindi clicco sul più ed effettivamente me l'ha portata qui ma io posso trascinarla qui quindi faccio play e abbiamo la nostra musica ma se io seleziono appunto la traccia audio comunque posso gestire il volume in generale ce ne accorgiamo anche dall'anteprima dell'onda audio e possiamo fare anche il fade in e fade out praticamente andrà a ridurre il volume in ingresso in uscita quindi in questo caso con il fade in impostata così a 10 secondi la canzone inizierà prima piano e poi aumenterà il volume e così in uscita lo stesso da che altro poi andrà a scemare quindi comunque sono dei buoni delle buone modifiche che possiamo fare ovviamente possiamo cancellare questa traccia audio andare nella sezione media e possiamo importare altre cose infatti media globale abbiamo queste clip che io già avevo precedentemente importato ma se andiamo qui in progetto media abbiamo appunto le clip che possiamo importare in generale o clicco su importa magari seleziono questa canzone che una mia canzone che già avevo scaricato la trascino qui ed effettivamente se io mi porto magari qui ho questa traccia audio che ho scaricato appunto da un altro servizio di streaming musicale quindi appunto possiamo sfruttare tutte le nostre clip audio e anche altri file video infatti ad esempio posso inserire qualsiasi altro video ad esempio questo video l'ho realizzato con la sony alfa 74 appunto è un tutorial della insta 360 x4 e lo posso importare nel mio montaggio senza alcun problema ma adesso diamo un'occhiata alle altre possibilità appunto qui abbiamo tutte le canzoni ma possiamo inserire anche del testo anche in questo caso va scaricato ma comunque abbiamo già l'anteprima quindi magari io voglio selezionare titolo daily vlog lo scarico clicco sul più lo ha portato qui sotto quindi lo trascino all'inizio più o meno della mia clip clicco qui e posso cambiare il testo ad esempio lo voglio chiamare insta 360 unito studio ok in questo caso poi posso anche aumentare le dimensioni la rotazione la posizione insomma possiamo fare veramente un pochino di modifiche in questo caso però insta 360 va a capo e quindi magari selezioniamo quest'altro clicco su più cancello proviamo qui e lo chiamo insta 360 holiday studio quindi mi porto all'inizio facciamo play e abbiamo il nostro titolo appunto per il nostro video ovviamente ne possiamo aggiungere quanti ne vogliamo ma una parte interessante riguarda le transizioni anche in questo caso vanno scaricate abbiamo qui un'anteprima ne abbiamo veramente un bel po' magari voglio utilizzare magari ok left shift trascino la transizione qui vediamo se è messa bene con questo zoom qui mi sposto qui faccio play e effettivamente ha creato questa transizione allora mettiamo qui muto se no ok quindi andiamo qui play e ha creato appunto questo movimento così ma se io clicco di nuovo su questa clip posso gestire un po di cose diciamo tutto quello che abbiamo già visto prima è infatti ad esempio in caso possiamo cambiare un pochino di di cose anche nella sezione audio mentre nella sezione video mi riporto qui che stavo selezionando l'altra clip anche in questo caso possiamo gestire la nostra inquadratura e realizzare il di track magari appunto effettivamente non voglio passare dalla sezione precedente mi porto qui io dico effettivamente questa clip voglio che inizia qua quindi posso fare un taglio che cancella la parte precedente oppure posso dividere la clip utilizzando questa icona qui che divide posso cliccare su ctrl z per annullare e seleziono questa parte qui inizio del taglio quindi torno faccio uno zoom out ed effettivamente la tagliata da lì quindi ovviamente posso anche poi dividere la clip selezionare questa parte non mi interessa e cliccare su cance e poi la cancella manualmente ma appunto possiamo utilizzare anche questi shortcut che sono molto veloci per annullare appunto una modifica oltre a cliccare ctrl z possiamo andare qui su annulla e quindi io annullo diciamo tutte le modifiche che ho fatto quindi ovviamente noi possiamo creare tutte questi questi nostri montaggi volevo far vedere appunto il deep track da qui posso cliccare qui o comunque magari selezionare fare un rettangolo clicco su abbia deep track è come vediamo effettivamente sta procedendo nel tracciamento della persona in questo caso perché appunto mi ha riconosciuto e quindi possiamo fare anche queste piccole modifiche direttamente da qui ma secondo me conviene effettivamente fare un editing un po più particolare nella sezione dedicata alla modifica del singolo video e poi quando ci richiamo in questa sezione possiamo fare magari appunto il montaggio dedicandoci più magari o ai tagli alle transizioni i titoli e la musica quindi appunto se noi già creiamo i nostri keyframe i nostri movimenti di camera poi importiamo tutto effettivamente sarà più semplice da modificare ma ripeto il tutto è gestibile anche da qui è in questo caso possiamo cliccare su esporta e anche in questo caso possiamo selezionare un po di cose ora appunto il frame rate è bloccato io lo voglio esportare in 4k magari un video pronto all'uso e lo devo pubblicare su youtube seleziono 50 megasecondo in h264 ed il gioco è fatto se noi selezioneremo rimuovi grana utilizzerà un effetto ai che ripulirà un pochino l'immagine quindi se vediamo che effettivamente il video un po abbiamo utilizzato dei valori iso alti perché magari c'era poca luce potreste provare questa modifica di rimuovi grana bene ma invece di esportare questo filmato vi volevo far vedere che nella sezione menu impostazioni preferenze possiamo ottimizzare alcune cose di base dovrebbe effettivamente aver selezionato tutto quindi se avete comunque una scheda video dedicata eccetera eccetera dovrebbe essere già di base tutto abilitato appunto sfrutterà l'accelerazione hardware del dispositivo è ovviamente importante possiamo poi ottimizzare anche il percorso di salvataggio e gestire altre cose se avete problemi con il programma potreste provare a cancellare anche la cache in tutto ciò se magari avete la versione del programma vecchia comunque è possibile controllare gli aggiornamenti da qui e verificare che effettivamente sia aggiornato bene ragazzi effettivamente ho parlato per un sacco di tempo ma spero di avervi fatto un buon riassunto delle principali caratteristiche di insta360 studio c'è veramente tantissimo da dire soprattutto nel mondo dell'editing veramente ci sono tantissime cose da approfondire ovviamente per qualsiasi dubbio potete commentare qui sotto e risponderò a tutti i vostri problemi e domande ovviamente se il video vi è piaciuto potreste lasciare un bel like